Ciao a tutti e benvenuti al corso gestire un sito fatto con Wordpress. Oggi andiamo a vedere un tormentone che è il copia e incolla da un file doc, quindi di Word o di OpenOffice o LibreOffice, quello che usate, a Wordpress. Perché quando voi fate copia e incolla da un qualsiasi file a Wordpress, a volte succedono dei casini inerrabili, nel senso che il copia si porta dietro una marea di formatazione schifosa, inutile, che appesantirebbe il sito che se non avete due o tre cortezze e non sapete come fare, andate a rovinare. Il sito magari esteticamente sembra tutto uguale, ma dietro c'è un sacco di codice sporco che dà fastidio alla velocità del sito e quindi dà fastidio a Google e al solito posizionamento. Quindi andiamo a vedere come farlo in modo ben fatto. Mi hanno mandato questo fantastico file di OpenOffice, quindi in formato DT, poteva essere un doc ed era la stessa cosa, e voglio fare modifica, seleziona tutto, modifica, copia per andare a incollare tutto sul mio sito fatto con Wordpress. Bene, voglio andare a aggiungere questo testo in questa pagina, sono già entrate nella bacheco, ho fatto login, vado in modifica pagina e mi vado a posizionare nel punto dove voglio che appaia il testo incollato, quindi vado a scorrere fino a trovare il punto desiderato, inserisco i miei spazi se sono pronti per fare incolla. Se avete la nuova versione di Wordpress, se l'avete aggiornato, vedete che c'è questo tasto, incolla come testo. Allora, innanzitutto, se non vedete questa riga di bottoni, è perché avete meno opzioni. Questo tasto mostra, nasconde una seconda riga di opzioni, quindi se voi vedete solo questi pochi tasti qua, cliccate qui e vedete che ve ne appariranno degli altri. E prima di fare incolla, dopo aver fatto copia, andate a cliccare qui. Una volta che questo tasto è spinto, potete fare incolla. Ok. A questo punto, se io vado a verificare, questo è un trucco un po' da smanettoni, qua siamo in visuale, e vedete che ci sono due schede visuale e testo. Vado in testo e vado a verificare, nel punto dove ho fatto incolla, che non mi abbia aggiunto della roba strana. Effettivamente ho incollato da qua, dove dice testimonianze, fino in fondo, e non mi ha aggiunto niente di strano, per cui ho fatto bene il mio lavoro. Vi faccio solo vedere la differenza. Togliamo qua il tastino premuto. E facciamo di nuovo copia e incolla. Quindi vado di nuovo sul mio open office e faccio seleziona tutto, copia. Modifica, seleziona tutto, modifica, copia. Torniamo nel punto dove dobbiamo incollare la roba. E' lo stesso punto. Stavolta non lo attivo e faccio incolla. Quindi faccio tasto destro, incolla. Adesso, se io vado in testo, vedete quanto codice strano che ha messo? Tutto questo codice è inutile. Se l'è tirato dietro, vedete tutta questa robazza? Prima avevamo solo il testo. Guardate quanta robazza che si è tirato dietro, che non serve assolutamente a niente, appesantisce solo la velocità del sito. Tutti questi spam, tutte queste lang, questa roba strana. E' tutta porcheria che rallenta tantissimo, che non serve assolutamente a niente e che rovina le prestazioni del sito. Quindi è importante utilizzare questo tastino di incolla. Questa nuova funzione è stata introdotta da non molto in WordPress. Quindi se non trovate questo tasto, vuol dire che il vostro WordPress è da aggiornare. e prima di fare, prima quando non esisteva questo tasto, come si bypassava questo problema, si andava a fare copia e ad aprire il notepad o blocco note. Quindi un blocco note normalissimo, io facevo incolla sul blocco note e in questo modo il blocco note non possiede formatazioni particolari, quindi facevo di nuovo modifica, seleziona tutto, modifica, copia dal mio blocco note e quindi senza bisogno del tastino, adesso annullo un attimo quell'incolla che ho fatto prima, senza bisogno di attivare questo tastino, se io incollo dal blocco note, faccio tasso destro, incolla, adesso andiamo a vedere in modalità testo, vedete che dal blocco note non viene trasportata nessuna porcheria. Però adesso, dal momento che c'è la nuova funzione, questo passaggio del blocco note in più e quindi io comunque vi consiglio di, se non trovate questo tastino, di aggiornare WordPress, perché gli aggiornamenti di WordPress sono importantissimi e è sempre meglio farli. Comunque, se per caso quel giornalino non avete tempo di aggiornare, incollate utilizzando il trucco del blocco note. Però, caldamente suggerito, aggiornate, perché gli aggiornamenti servono anche per evitare che il vostro sito sia infettato da virus, quindi meglio perdere un attimo di tempo ad aggiornare, piuttosto che a perdere il tempo a fare copia e incolla col blocco note. E per questa lezione è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!